Offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra. E' quanto accaduto ieri a una lavoratrice dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia che ha riportato un trauma cranico a causa della caduta, con prognosi di otto giorni. Il motivo di tutto questo è la richiesta del Green Pass a una coppia di passeggeri all'imbarco per Londra. Alla donna è giunta immediatamente la solidarietà da parte del presidente della regione Fedriga. Da quanto riferito alla FIT CISL dalla lavoratrice, l'uomo alla richiesta di esibire il documento indispensabile per poter salire in aereo avrebbe letteralmente perso le staffe, scagliandosi contro la dipendente, immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Per fortuna l'intervento dei colleghi prima e della polizia dopo ha evitato il peggio. Questa è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che purtroppo si sta esasperando in tutto il settore dei servizi pubblici. Episodi del genere, commenta il segretario della FIT CISL del Friuli Venezia Giulia Antonio Pittelli, rischiano ormai di diventare quotidiani per chi esercita ruoli di controllo sui mezzi. Ieri è accaduto in aeroporto ma abbiamo segnalazioni anche dai treni e temiamo le stesse reazioni anche sugli autobus.